Di solito Zavala non parla molto. Dovresti considerarlo un complimento. Ho segnato il suo ufficio sul tuo rilevatore. Ana mi ha detto che stai con l'occhio a non rompere niente e non toccare la sua collezione di musica. Questa è un'arma di servizio dell'avanguardia, ma viene dalla collezione privata di Zavala. Sho deve averti elogiato parecchio. O magari Zavala ha visto qualcosa in te. Ora dove andiamo? Ah, dovresti proprio vedere il bazar. Lì troverai Ikora. Vuole incontrare personalmente tutti i nuovi stregoni. Sì, non è vero. Ora dove ho messo quella maledetta? La lente dematerializzante. I Correrei è l'avanguardia degli stregoni. Guida gli stregoni della torre come Zavala guida i titani. Si può dire che faccia un po' di tutto. Guida gli ordini degli stregoni negli ambiti di ricerca e sviluppo, ricognizione nemica e affari interni. E vederla nel crogiolo è uno spettacolo. Cosa cerchi? La nostra luce è più forte che mai. È sempre un piacere vedere Icora. E già che siamo qui, dovresti presentarti a Ramigo. Forse ti stai chiedendo chi guida i cacciatori. Un po' di tempo fa abbiamo perso Kate Say, l'avanguardia dei cacciatori, ucciso da Ultransov. È stato un momento difficile. E nessun cacciatore vuole sostituirlo. Ho giusto un paio di minuti. I miei occulti sono disposti. È meglio che ho da offrire. Stai cercando un affare? Ah, il prescelto. Hai ucciso qualche dio dell'alveare di recente? Ah, il prescelto. Fai attenzione là fuori. Vedi, il fatto è che il Ramigo è unico. Sì, mettiamola così. I guardiani sono i benvenuti. L'avanguardia non sa che frequento certa gente su Roma e so che non sarai tu a farglielo sapere. e so che non sarai tu a farglielo sapere. Sì, mettiamola così. Vedi, il fatto è che il Ramigo è unico. Vedi, il fatto è unico. Vedi, il fatto è che il Ramigo è unico. Vedi, il fatto è di farglielo sapere. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501